caro dottor cottarelli un saluto da bruno risas come lei ben saprà io sono un economista prestato alla musica lei d'altronde scandisce i ritmi dell'economia e quindi siccome entrambi ci occupiamo della salute sociale e finanziaria perché il mio è sempre stato un progetto dichiaratamente a scopo di lucro mi chiedo e le chiedo ma senza vaccino quanto ci costerebbe questa cura caro bruno risas io sono un musicista prestato all'economia mi piacerebbe dirlo ma non è neanche così tra l'anno scorso e quest'anno il reddito italiano ha perso rispetto alla tendenza precedente circa 300 miliardi e quindi senza i vaccini quest'anno costerebbe sarebbe costato anche di più ma per fortuna che con i vaccini la ripresa ci sarà quindi è assolutamente necessario andare il più presto possibile con il piano vaccini costi quel che costi perché il risparmio che può derivare dal piano vaccini è ben superiore ulteriori costi dei vaccini stessi quindi avanti senza pensare alla questione del costo dei vaccini in questo momento perché la priorità è quella grazie a tutti grazie a tutti